faccio io guarda mi metto qua guarda faccio il balletto mi metto io qua vediamo se funziona se arriveranno più sub dopo questo balletto spettatori aspetta metto occhiale tattico dove ho occhiale tattico ok cioè io dovrei fare uno due due ore due ore dei contenuti su twitch così al ritmo de ventilatore oppure com'è pram pam 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 io oggi però tutti i contenuti di forse funzionerà sta arrivando grazie yuri